La visita del Ministro dell'Agricoltura e della Sovranità Alimentare Francesco Lollobrigida, tenutasi venerdì 31 maggio a Vespolate alla Cascina Fornace di proprietà del Vicepresidente di Coldiretti Novara V.C.O. e Presidente di Campagna Amica Piemonte Orientale Fabrizio Rizzotti, ha suscitato grande interesse tra i presenti proprio per la varietà delle tematiche toccate. Il Ministro ha prima visitato l'azienda Risicola, giunta all'ottava... Nuova Swift Hybrid, tutto di serie e senza sorpresa.